Ciao! Oggi preparo un dolce famoso italiano, il tiramisu. Iniziamo! Ingredienti Un pacchetto di savoiardi, in inglese si chiama Lady Fingers, 500 grammi di mascarpone, 100 grammi di zucchero, 5 tuorli d'uovo, una o due tazze di caffè, una oncia di liquore, 8 once di crema battita, un po' di cacao amare in polvere. Preparare il caffè. Versare il caffè in una ciotola. Aggiungere un'oncia di liquore a tua scelta. Ho usato il rum. Separare 5 tuorli d'uovo. Preparare una bagnomaria. Sbattere le uova fino a renderle cremosa. Aggiungere lo zucchero. Sbattere le uova e lo zucchero fino a renderle cremose. Aggiungere il mascarpone. Aggiungere la crema battita. Immergere i savagliardi nel caffè e lo strato in padella con la crema pasticcera. Spolverare il dolce con il cacao in polvere. Raffreddere e servire. Grazie per guardare! C'è un'altra arcade. C'è un solo da ciego problema. Per quanto riguarda la crema pasticcera. Grazie a tutti